Amiche e amici che oggi vi trovate a Lampedusa, vorrei oggi essere lì con voi. Infatti era previsto di essere a Lampedusa insieme a voi, ma purtroppo i impegni dell'ultimo momento hanno fatto impossibile che io facessi il viaggio. Comunque voglio dirvi che sono lì col cuore, anche col pensiero, perché sono momenti molto difficili in Europa. Oggi Europa si confronta con la propria immagine, si guarda nello specchio e non si riconosce. Oggi Europa, che è stata fondata decine di anni fa, si è fondata proprio per difendere la vita, per difendere la pace, i diritti umani, per dire mai più agli orrori del nazismo, per dire mai più alla guerra, all'orore, alla violenza contro le persone. Quell'Europa oggi si chiude sulla propria paura. Quell'Europa oggi ci vergogna quando si bunkerizza e quando migliaia di persone stanno morendo nei confini dell'Europa. E' nel nostro mare, nel mare Mediterraneo. Un mare che lo vogliamo per essere ponte, per essere un luogo di scambio tra persone, tra culture. E invece oggi il nostro mare si riempie di cadaveri, si riempie di morte, di bambini, di persone vecchie, malate, che solo vengono a chiedere aiuto, a chiedere vita. Ma non siamo soli. Sono migliaia di cittadini che stanno dicendo vogliamo un'altra Europa. Non ci riconosciamo in queste politiche europee. E lì, a Lampedusa, in una piccola isola, state resistendo a quelle politiche, state difendendo la vita e la dignità della persona. E vogliamo ringraziarvi. Da Barcellona a Lampedusa vogliamo dirvi grazie, vogliamo dirvi voi ci rappresentate. E quindi da Barcellona vogliamo anche dare un messaggio di coraggio. Vogliamo darvi un messaggio a Lampedusa per dirvi non siete soli. Barcellona è con voi. E Barcellona, come uguali con Lampedusa, con Atene, con Lesbos, con tante altre città del Mediterraneo, vogliamo alzare la voce e dire a Europa che bisogna cambiare le politiche. Vogliamo una politica della vita e dei diritti. E noi siamo disposti ad impegnarci per farlo possibile. Grazie Lampedusa per il vostro coraggio, per la vostra forza, per la vostra lotta di ogni giorno. Vogliamo dirvi che Barcellona è con voi e che sempre, se possibile, vogliamo aiutare a quelli che aiutate ogni giorno nel mare Mediterraneo. Con voi vogliamo ricostruire un'altra Europa, un'altra Europa che è già possibile e che tante persone ogni giorno che volontariamente si spostano per aiutare gli altri stanno dimostrando nei fatti. Quell'Europa è possibile, quel Mediterraneo della vita è possibile, insieme a voi, amici, sorelle, fratelli di Lampedusa.